Facciamo un altro video, scala è 1 a 5, ho provato perché ci sono dei dettagli molto belli, tipo quest'area biribiri bit, questo spazio, caffetteria, quest'area interna coperta, diciamo che sembra quello che lo spazio comincia, c'è un common kitchen, c'è scritto, c'è un grande ostello, mi sembra di aver letto anche che sono 500 persone in questo villaggio, book coordination, c'è una libreria interna, ecco, what's the rental, questo spazio che si può affittare, vediamo la sua cos'è scritto, mi riterebbe veramente un viaggio più dettagliato, che è una semplice passaggiatrice, sembra una birreria, è in stima barca, un ristorante, è stupido, è stupido, è stupido, è stupido, è stupido, serve un progetto da prendere così e realizzare subito su due piedi, grazie a tutti!